Salve, mi chiamo Salvatore e vengo da Genova. Ho scelto la clinica M3Dent tramite ricerca su internet. Dopo la visita mi hanno consigliato l'intervento di sei impianti in metallo ceramica. Ho trovato un ambiente ottimo, accogliente, con personale molto disponibile, soprattutto l'assistenza italiana sul posto. Dalla mia esperienza consiglierei a tutti di affidarsi alla clinica M3Dent sia per la professionalità e sia per i soldi. Grazie.